La pressione appare particolare da noi, ma anche in tutta Europa, sta circolando, sta correndo, forte, anche violento. Nell'ultima settimana monitorata dal 19 al 25 novembre, il numero di nuovi casi è quasi raddoppiato rispetto alla settimana precedente. E infatti l'RT, che come sapete segnala la capacità di trasmissione del virus, è aumentato sino a 1,7. Parliamo di una media nazionale, quindi vuol dire che ci sono alcune regioni che hanno un'RT ancora superiore. Rispetto alle persone contagiate, è vero, sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero delle persone che vanno in terapia intensiva, ma è vero che i numeri complessivi sono in costante aumento e comportano un'alta probabilità che molte regioni superino le soglie critiche delle terapie intensive e delle terapie mediche già nelle prossime settimane. Dobbiamo necessariamente intervenire. Dobbiamo farlo per rallentare la circolazione del virus, in attesa di poter disporre, ci auguriamo quanto prima, di vaccini, di terapie risolutive. Oggi, a differenza della prima ondata, però disponiamo di un piano di monitoraggio della curva molto articolato, che si basa su 21 parametri. Questo piano è la bussola, che ci indica dove intervenire con quali misure, anche differenziate e ben mirate. Più elevati sono la circolazione del virus e il rischio di tenuta dei servizi sanitari più restrittive, sono le misure che andiamo a introdurre. E guardate, se invece introducessimo misure uniche su tutto il territorio nazionale, produrremo un duplice effetto negativo. Quello cioè, da un lato, di non adottare misure realmente adeguate ed efficaci per le regioni che sono attualmente a maggior rischio, e dall'altro finiremmo per inturre, per imporre misure ragionevolmente restrittive per quelle aree del Paese dove invece la situazione è meno grave. Per questo abbiamo distinto l'intera penisola in tre aree, gialla, arancione, rossa, ciascuna con proprie misure restrittive. Tutte le misure che vi riassumerò entreranno in vigore venerdì, a partire da venerdì, perché abbiamo voluto, ho voluto, differire all'orientata in vigore di un giorno per consentire a tutti di disporre di un tempo congruo per organizzare le proprie attività. E proprio qualche ora fa, poco fa, il Ministro Speranza ha adottato un'ordinanza che ha individuato le regioni più critiche della fascia rossa e della fascia arancione. Partiamo dall'area gialla, con criticità moderata. In quest'area, all'esito dell'ultimo monitoraggio, rientrano le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio-Liguria, Marche-Molise, Sardegna, Toscana, Umbria-Veneto, province di Trento e di Bolzano. In queste regioni sarà vietato circolare dalle ore 21 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, di necessità, di salute. Anche durante il giorno, peraltro, raccomandiamo di limitare gli spostamenti, se non per motivi di salute, di lavoro, di studio o situazioni di necessità. Nei giorni festivi e prefestivi chiudono i negozi all'interno dei centri commerciali, ad eccezione di farmacie e parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole. Chiudono musei, chiudono mostre. Per quanto riguarda la scuola, si passa alla didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado, quindi parliamo di licei, istituti tecnici e professionali, fatta eccezione per gli studenti con disabilità in caso di utilizzo di laboratori. Continuano invece le lezioni in presenza per le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie. Le attività didattiche nelle università si svolgeranno necessariamente a distanza, salvo che per le matricole e per l'utilizzo di laboratori. Sono sospese tutte le prove preselettive, le prove scritte che si svolgono in presenza, parliamo di concorsi pubblici e privati, come pure di abilitazioni professionali, con alcune eccezioni, come i concorsi di abilitazioni di medici, operatori sanitari o della protezione civile. Per i mezzi di trasporto è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per il trasporto scolastico. Sono sospese le scommesse giochi e videogiochi anche nei bar e nelle tabaccherie. Bar e ristoranti restano aperti fino alle ore 18 e l'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono però restrizioni e continuano a rimanere chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, mentre invece restano aperti i centri sportivi. Passiamo all'area arancione, con un livello di criticità che possiamo definire medio-alta. Anche in quest'area ci sono delle regioni e sono la Puglia e la Sicilia. Anche qui è vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo anche qui comprovati motivi di lavoro, necessità, salute. In aggiunta, ecco vedete le misure diventano via via più restrittive, qui è vietato spostarsi in entrate e in uscita da una regione all'altra e da un comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. E da un comune all'altro ci si può comunque spostare per soffrire di servizi di attività non disponibili nel comune di abitazione o di residenza. E anche in questo caso, raccomandiamo di evitare spostamenti che non siano necessari nel corso della giornata. Attenzione, in queste regioni chiudiamo anche bar e ristoranti, sette giorni su sette, che possono però operare per l'asporto fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Ancora, a queste regioni si applicano le regioni arancioni, le seguenti misure, previste anche per quelle gialle, le indico per maggiore chiarezza di chi ci sta seguendo. Giorni festivi e prefestivi chiudono i negozi all'interno dei centri commerciali, sempre ad eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole. Chiudono anche mostre e musei. Anche qui è prevista la didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado, fatta eccezione per studenti disabili in caso di utilizzo di laboratori. Le lezioni in presenza rimangono per le scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Le attività didattiche e le università si svolgeranno anche qui necessariamente a distanza, salvo che per le matricole e per attività di laboratorio. E ancora sono sospese tutte le prove preselettive, le prove scritte, che si svolgono in presenza per concorsi pubblici e privati per abilitazioni professionali, con alcune eccezioni come i concorsi, le abilitazioni di medici, operatori sanitario e della protezione civile. E anche qui, per i mezzi di trasporto pubblico, è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico. Anche qui sono sospese le attività riguardanti scommesse, giochi, videogiochi, anche nei bar, nelle tabaccherie, e continuano a rimanere chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, mentre rimangono aperti i centri sportivi. E poi ci sono le regioni dell'Area Rossa, con criticità alta. Sulla base e l'ultimo monitoraggio dell'ordinanza appena firmata dal Ministro Speranza vi rientrano Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. A queste regioni si applicano misure ancora più restrittive. In questo caso è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e di salute. Quindi va da sé che non ci si può spostare da una regione all'altra né da un comune all'altro. Anche qui chiudono bar e ristoranti, ma l'asporto è consentito sino alle 22, non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio. Chiudono anche i negozi, fatta eccezione per quelli riguardanti i generi alimentari, i beni di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie. E tra i servizi della persona restano aperti parrucchieri e barbieri, anche le lavanderie. Negli uffici pubblici si lavora in presenza solo per attività indifferibili, altrimenti si va in smart working. Per la scuola, in questo caso la didattica a distanza è prevista, oltre che per la scuola secondaria di secondo grado, anche per le classi di seconda e terza media. Restano quindi aperte solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, la prima media. Non abbiamo, nel caso della prima media, voluto imporre sacrifici soverchi agli studenti. Hanno iniziato da poco un nuovo ciclo scolastico, una nuova esperienza formativa, si sono appena conosciuti tra loro e con i loro professori, ed è giusto che possano proseguire in presenza. Tutti i corsi universitari si svolgeranno a distanza, salvo specifiche eccezioni, come i corsi di medicina e relativi tirocini. Sono sospese tutte le prove anche qui preselettive, scritte, che si svolgono in presenza, concorsi pubblici, privati, abilitazioni professionali, con alcune eccezioni, come i concorsi di abitazioni di medici, operatori sanitari e anche qui protezione civile. Sono sospese tutte le competizioni sportive, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. È sospesa ogni attività svolta in centri sportivi, mentre rimane consentito lo svolgimento dell'attività motoria, nei pressi della propria abitazione, attività sportiva solo all'aperto, ma in forma individuale. Anche qui ovviamente sono chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar, nelle tabaccherie. E anche qui, per i mezzi di trasporto, è consentito il riempimento solo fino al 50%, con l'eccezione dei mezzi di trasporto scolastico assoggettati a specifici protocolli. avrete notato che non ci sono regioni ricomprese in aree verdi. La pandemia accorre ovunque, quindi non ci sono regioni e territori che possono sottrarsi a questi nuovi regimi di misure restrittive. Il nuovo DPCM, l'ho già anticipato, entrerà in vigore venerdì 6 novembre, sino al 3 dicembre. Tutte queste misure entreranno insieme venerdì prossimo. Poi, con future ordinanze del Ministro della Salute, verranno forniti aggiornamenti sulla condizione di rischio in cui si trovano le varie regioni. E le ordinanze del Ministro della Salute non saranno, attenzione, arbitrare o discrezionali, come non lo è stata quella appena emanata, perché recepiranno l'esito del monitoraggio periodico che viene effettuato congiuntamente dai rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute e anche i rappresentanti delle regioni. Risultati che poi vengono condivisi anche dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico. Se una regione, per intenderci all'esito dell'adozione di queste misure restrittive, dovesse rientrare però in condizioni di instabilità per non meno di 14 giorni, in una condizione di rischio più bassa, potrà essere assoggettata successivamente a un regime di misure meno restrittive. Ce lo auguriamo tutti. Ho chiesto al Ministero della Salute e anche al Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità di condividere i dati del monitoraggio, gli indicatori che sono alla base di questa attività. Queste informazioni sono già condivise dalle singole regioni, perché le regioni stesse alimentano questo flusso di informazioni e lo inviano, quindi lo fanno pervenire all'Istituto Superiore di Sanità. Vogliamo che questi dati siano accessibili alla comunità scientifica e a tutti i cittadini. Non abbiamo alternative. Dobbiamo affrontare queste restrizioni per congelare questa impennata della curva di contagio. Comprendiamo il disagio, la frustrazione e la sofferenza psicologica, ma dobbiamo tenere duro. Siamo già all'opera, peraltro, per mitigare le ripercussioni negative che queste restrizioni avranno sull'attività economica, sui redditi, sul tessuto produttivo. Già questa settimana porteremo in Consiglio dei Ministri, dovremo farcela già domani sera, un nuovo decreto legge che consentirà la pronta erogazione di indennizi agli operatori economici colpiti da queste nuove misure. È un decreto che si aggiunge a quello appena adottato, lo possiamo chiamare un decreto ristori bis. Anche questa volta punteremo a erogare benefici da accreditare direttamente sugli IBAN, sui conti correnti degli operatori economici direttamente colpiti da queste misure, tramite l'Agenzia delle Entrate, insieme ovviamente ad altre misure di sostegno che pure adotteremo. Ci aspettano ancora mesi lunghi, difficili, rispettando però le regole. Con l'impegno di tutti possiamo raffreddare la curva epidemiologica e recuperare un margine di serenità. È un percorso che dobbiamo compiere tutti insieme, sorreggendoci, sostenendoci, gli uni con gli altri. Grazie. Grazie. Allora adesso possiamo iniziare con le domande. Abbiamo Gabriele Martelloni di Regno 24. Permettetemi che mi segnalano che per l'area gialla avrei detto divieto di circolazione dalle 21, invece dalle 22. Quindi facciamo questa precisazione. Ripeto, per l'area gialla, le regioni che sono nell'area gialla, avrei detto divieto di circolazione dalle 21, invece il divieto di circolazione è dalle 22. Prego, le domande. Buonasera Presidente, un chiarimento sul DPCM. La zona rossa, la fascia rossa, si delinea soltanto a livello regionale o ad esempio in una regione in fascia gialla è possibile delimitare ad esempio una provincia come zona rossa. E poi una cosa invece sul tavolo politico di domani con i leader della maggioranza. Qualcuno le ha già prospettato la necessità di un cambio di ministri all'interno del governo per il patto di legislatura di cui parlava lei. Oppure sarà incentrato soprattutto sui temi, magari si è parlato già di sciogliere il nodo MES, legge elettorale? Grazie. Allora, per quanto riguarda la possibilità che il monitoraggio possa anche suggerire una diversa condizione di rischio all'interno di una regione per singole province, è un monitoraggio che ci è stato spiegato e costruito anche su base provinciale. E' chiaro che più si scende dal punto di vista della granulosità di con i tecnici e più ovviamente bisogna stare attenti, però abbiamo previsto anche la possibilità nel DPCM che ci possa essere anche qualche a ragione veduta, quando ricorrono particolari condizioni che giustificano una differenziazione all'interno delle regioni, in astratto è anche possibile una differenziazione, quindi abbiamo i meccanismi per operarli. Però, ripeto, la forza dell'intero meccanismo ovviamente è di costruire un tessuto di misure che, data anche la circolazione, data la possibilità di avere un flusso informativo sostanzialmente regionale, sia costruito su base regionale. Per quanto riguarda l'altra misura, l'altro tema che ha posto, l'altro quesito, quello dei rimpasti, in sostanza, chiamiamolo così, in realtà non mi è stato chiesto da nessuna forza politica di operare dei rimpasti e se mi permettete, dati anche i temi che stiamo affrontando questa sera e la criticità che si trova ad attraversare l'intero Paese, mi sembra che il tema dei rimpasti sia un tema che possa interessare poco i cittadini. Non interessa particolarmente me, ma le assicuro non sta neppure a cuore delle forze politiche. Domani ci vedremo, abbiamo fissato un incontro, ho chiesto un incontro con i leader delle varie forze di maggioranza per valutare quali sono le priorità per quanto riguarda l'azione di governo, le priorità politiche. Faremo un confronto e bene, ovviamente, la gestione della pandemia ci assorbe molto, ma dobbiamo pensare anche al futuro, dobbiamo pensare a ricoveri plan italiano, dobbiamo pensare a tutte le altre iniziative, alcune anche di rilievo costituzionale che possiamo assumere. Possiamo condividere un percorso insieme ed è bene quindi confrontarci per dare nuova lena all'azione di governo. La prima domanda è Marco Billeci, Fanpage. Buonasera Presidente, due domande anche per me. La prima, lo ha ricordato lei, questo meccanismo di chiusura si basa su un meccanismo di parametri, una bussola, l'ha chiamato lei, che il governo ha costruito nei mesi scorsi e che è stato confermato a ottobre. Ora, questa bussola doveva prevedere dei automatismi. In realtà in queste ore c'è stato un confronto anche duro con le regioni che hanno chiesto una sorta di contrattazione dei dati, di confronto sui dati che dovrebbero essere dati oggettivi. Allora io le chiedo, anche per le prossime settimane, visto che dovrà essere aggiornato di settimana in settimana, questo meccanismo è automatico o le regioni hanno, come dire, una richiesta politica di intervenire nelle decisioni che prenderà il Ministro Speranza e in che grado qualche regione in queste ore minaccia anche di impugnare le ordinanze informalmente. La seconda domanda invece che le chiedo è, mi può chiarire per quanto riguarda lo spostamento per le visite ai congiunti, soprattutto nelle zone a rischio più alto. È consentito? Quando? In che forma? Grazie. Scusi, il... Spostamento per le visite ai congiunti. Allora, per quanto riguarda, posto molti temi, iniziamo dal primo punto. C'è stato un ampio confronto, c'è sempre un costante confronto durante la pandemia con le regioni. Una volta, però, attenzione, una volta elaborato questo sistema, e questo sistema è stato elaborato, sia il piano, per quanto riguarda la gestione della pandemia, sia questo sistema di monitoraggio, è stato approvato e elaborato anche con i rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza delle regioni. Quindi c'è una cabina di regia in questo momento che riceve questo flusso informativo dalle regioni stesse. In questa cabina di regia ci sono dei rappresentanti, appunto, delle regioni, che congiuntamente elaborano questi dati. Quindi le regioni non sono un alter ego rispetto a questo sistema, sono parte integrante di questo sistema di monitoraggio, al punto che hanno contribuito a definirne il sistema e contribuiscono a leggere e interpretare i dati. Permettetemi, quindi, e improprio dire il confronto con le regioni. Le regioni sono parte integrante. Il confronto deve avvenire, l'ho detto, questi dati li dobbiamo rendere assolutamente accessibili con i relativi indicatori. È giusto che in questo momento, in termini di accountability, ci sia la trasparenza e siano accessibili anche questi indicatori, questi meccanismi, a tutta la comunità scientifica. Quindi il confronto, se mi permette, deve avvenire con la comunità scientifica e con i cittadini. Sono loro che in questo momento, semmai, sono fuori da questo sistema. Detto questo, quindi è chiaro che quando si adottano poi gli esiti dei singoli monitoraggi, e lo fa il Ministro della Salute e Speranza con ordinanza, il Ministro non si è riservato una discrezionalità politica, per cui, a seconda della contrattazione, come lei un po' ha suggerito con la Regione, vediamo l'esito di questa negoziazione. e qui stiamo parlando del bene dei cittadini. Non ci possiamo permettere di lasciare a valutazioni politiche una volta che abbiamo costruito un sistema così serrato. La scelta e le valutazioni politiche l'abbiamo fatta con questo DPCM, laddove abbiamo costruito questo regime tripartito di misure. Una volta scelto e optato per questo, e abbiamo anche una lettera formale, un parere formale delle Regioni, che poi ci hanno detto bene misure univoche nazionali con l'integrazione di misure più restrittive per le Regioni che ne hanno bisogno, così nero su bianco. Quindi una volta condiviso questo impianto, questo regime restrittivo, le conseguenze sono automatiche perché sono basate su criteri predefiniti e oggettivi, che sfuggono a qualsiasi contrattazione. E stiamo parlando di cose serie. Non è possibile mettersi a negoziare e a contrattare sulla pelle dei cittadini. Non lo farà il Ministro della Salute, non lo faranno, ovviamente, immagino neppure i Presidenti delle singole Regioni. Quindi il contraddittorio ci sarà perché quando il Ministro della Salute adotta l'ordinanza è prescritto che lo faccia sentito il Presidente, ma non negoziando col Presidente, d'intesa col Presidente. Quindi viene rispettato il contraddittorio, anche qui, sul singolo atto che però certifica un risultato obiettivo e predeterminato. Il contraddittorio è a monte, le Regioni partecipano al processo. Noi, come sapete, abbiamo messo la raccomandazione già da tempo, già attualmente, che non si va a trovare persone non conviventi perché quella è un'occasione di contagio. Ovviamente le restrizioni sono dotate nella zona, tra virgolette, nell'area, nelle Regioni rosse, addirittura è l'uscita di casa che va motivata perché si esce solo per quei casi che abbiamo detto. Quindi le restrizioni sono modulate. Però, in ogni caso, al di là del divieto, che è molto stringente per quanto riguarda, ovviamente, le aree in condizioni di più alto rischio, c'è sempre la raccomandazione, anche nelle aree gialle, di non andare dove ci sono in altre abitazioni, dove ovviamente si incontrano persone non conviventi e si creano occasioni, ovviamente, di pericolo. Antonella Scutiero, Agenzia di Stampa La Presse. Allora, buonasera Presidente. Innanzitutto un chiarimento se e quando saranno necessarie le autocertificazioni. Poi, per quanto riguarda i ristori, il decreto ristori bis, se è verosimile la cifra che è circolata di uno stanziamento tra un miliardo e mezzo o due miliardi di euro, se verranno previsti nuovi congedi parentali, come chiedevano ieri le Regioni, e se avete fatto una stima di quanto questo nuovo mini lockdown localizzato può avere effetti sul PIL nazionale. Siamo per ora almeno nove, un po' se avete già fatto i conti, visto che siamo in era di manovra. Grazie. Grazie. Anche lei tante domande. Allora, per quanto riguarda l'autocertificazione, è collegata ai divieti? Se c'è un divieto per quanto riguarda gli spostamenti, chiaramente va motivato con l'autocertificazione. Quindi nelle zone roste si esce di casa a qualsiasi ora del giorno autocertificando dove si va per motivi di lavoro, di salute, l'abbiamo detto, o di necessità. E così quando c'è un divieto di spostamento tra una Regione e l'altra o un Comune e l'altro. Invece, quando c'è la raccomandazione, evidentemente, non va offerta nessuna autocertificazione. Ma noi confidiamo che anche le raccomandazioni siano rispettate. Perché questo ci consentirà di riportare al più presto sotto controllo la curva del contagio. Quindi significa che rispettando le regole faremo meno sacrifici in prospettiva. Poi, per quanto riguarda i ristori, adesso, in questo momento, non le anticipo una cifra, perché è chiaro che alla ragioneria stanno lavorando col Ministero col MEF, col Ministero dell'economia, stanno facendo di conto in questo momento. Però sicuramente ci sono adeguati adeguati stanziamenti per questo nuovo decreto ristori bis. Potrebbero essere sicuramente nella, dovrebbero essere nella montare che le ha indicato un e mezzo, due miliardi, ma noi, io l'ho detto, col Governo siamo determinati. Adesso stiamo affrontando questa battaglia e quando si affronta una battaglia così difficile, una prova così dura per l'intera comunità, per l'intero Paese, bisogna essere pronti a fare tutto il necessario. Quindi, se ci fosse necessità di avere, di disporre di ulteriori risorse, dobbiamo essere pronti se del caso non se ne ravvise immediatamente, ma se del caso anche a presentarci in Parlamento con grande senso di responsabilità anche per un ulteriore scostamento, ma non l'abbiamo ancora deciso perché per adesso abbiamo stanziamenti a quanto mi viene anticipato sufficienti. Quindi, questo riguarda anche tutte le altre misure di sostegno. Adesso non mi faccia anticipare, ma sicuramente c'è attenzione anche per quanto riguarda ragionalmente i concedi parentali perché sarà un problema ovviamente per le famiglie quando andremo a prevedere la didattica a distanza, soprattutto per i più piccoli, per i nostri ragazzi più piccoli. Credo di aver risposto a tutto eccetto che sul PIL. Beh, innanzitutto in un contesto così difficile, adesso mi segnalavano che è uscita l'ultima stima per quanto riguarda per dire i tassi al quinquennio, quinquennali, titoli di Stato, di debito pubblici. Siamo in prossimità allo zero. Quindi questo significa che nonostante quello che stiamo attraversando i mercati, gli analisti, i mercati finanziari credono a quello che stiamo facendo, ci danno fiducia. È un segnale importante. Io non ho la palla di vetro per dire se dovremmo rivedere le stime che lei sa sono intorno al 9% meno di PIL su base annua. Dobbiamo vedere. Però è chiaro che se riusciamo ad affrontare questa nuova fase, se queste misure ci aiuteranno a contenere il contagio, noi, come dire, qualche spesa in più vorrei che ce la potessimo permettere in termini di fiducia per quanto riguarda i consumi nel periodo natalizio. Quello ci consentirebbe come dire di riprendere un attimo dopo questo periodo in cui dobbiamo rifiatare. Dobbiamo predisporci come dire al momento un po' difficile e poi possiamo un po' affrontare con qualche serenità. Qualcuno ha detto ma Presidente lei è ottimista? Ma non è questione che non ho mai detto anzi ho precisato non sto pensando a un Natale a un periodo natalizio a veglioni feste natalizie cenoni abbracci tra parenti amici dobbiamo sempre rispettare le regole però se ci arriviamo in condizione con un certo margine di serenità sicuramente anche la fiducia nei consumi non sarà depressa e potremo vedere benefici economici. Prego. L'ultima domanda per Marco Difonzo Sky TG24 Buonasera Presidente ho anche io molte domande perché sono molte le domande penso che si facciano tutti gli italiani una prima che è un chiarimento lei ha parlato del monitoraggio che è il punto di partenza per la classificazione dei territori in base alla zona di rischio quello che è stato adottato per l'ordinanza di questa sera è quello della scorsa settimana con i dati del 19-25 ottobre o ce n'è uno nuovo di oggi perché il Presidente della Lombardia Fontana poche ore fa contestava che si potesse arrivare ad una distinzione rispetto alla sua regione con i dati di dieci giorni fa anche alla luce delle misure che nel frattempo la Lombardia ha preso seconda domanda riguarda la scuola forse l'ultimo appiglio diciamo di tante famiglie alla normalità anche alla luce del nuovo DPCM la compressione della didattica in presenza che nelle zone rosse arriverà fino a toccare dalla seconda media in su è il limite massimo secondo lei che abbiamo raggiunto o si potrà arrivare ancora oltre fino a toccare gli alunni più piccoli quindi delle elementari e della prima media in futuro una terza domanda più politica ha parlato del tavolo con la maggioranza che si riunirà domani le cose con l'opposizione invece come vanno lunedì in Parlamento c'è stato qualche elemento di disgelo chiamiamolo così con dei voti incrociati insomma delle approvazioni delle astensioni sulle risoluzioni rispetto al nuovo DPCM ma quelle piccole aperture sembrano quasi già rientrate sappiamo dell'attività e dell'interesse del Quirinale nella spinta alla condivisione sente la necessità e come dire ci può preannunciare una sua iniziativa di coinvolgimento più forte nei confronti delle opposizioni grazie rispondo alla prima domanda è chiaro che il ministro della salute oggi qualche ora fa ha adottato un'ordinanza assolutamente aggiornata rispetto agli esiti del monitoraggio tenete conto però che l'esito del monitoraggio adesso io non sono un tecnico semmai il professor Brusaferro lo spiegherà meglio potete fare a lui questa domanda ma da quanto compreso l'esito del monitoraggio certo non fotografa il dato che arriva questa mattina che arriva ieri perché va consolidato e elaborato quindi è aggiornato una settimana precedente quindi se qualsiasi regione man mano che dovesse andare avanti poi questo flusso di informazioni sarà tale questo flusso da variare la condizione di criticità questo lo vedremo però attenzione è anche vero che quando si entra in un'area in una fascia non è che si esce perché arriva un dato diverso il giorno dopo non funziona così i dati devono appunto stabilizzarsi ecco perché abbiamo previsto sempre sulla scorta delle indicazioni scientifiche che ci sono state suggerite che ci debba essere una permanenza in quella fascia almeno 14 giorni non può essere che il giorno dopo arriva un dato diverso chiaro? ovviamente è un sistema che richiede grande responsabilità da parte dei dipartimenti di prevenzione regionali i quali ovviamente sono anche una responsabilità pubblica pubblici ufficiali devono alimentare questo sistema devono mandare le informazioni al loro stesso interesse perché il monitoraggio sia accurato ma non c'è la possibilità di dire vedete ieri stavo meglio oggi sto peggio e allora cambia qualcosa nella valutazione è fatto in modo da fotografare un trend che viene stabilizzato per quanto riguarda la scuola lei mi invita a considerare a condividere una considerazione che peraltro la ricavo anche da un forte da una forte petizione che mi è venuta dalle aule parlamentari che il governo condivide la scuola deve essere un presidio quindi tra quelle misure il fatto ad esempio di mandare in didattica a distanza da remoto degli studenti delle scuole superiori di secondo grado sino ad arrivare nelle zone più critiche a mandare in dad didattica a distanza anche gli studenti seconda e terza media è un fatto che pesa molto al governo e le assicuro che appena la curva rientrerà sotto controllo una delle prime misure che vogliamo adottare eccetera è far restituire la didattica in presenza a quanti più alunni possibili ma è chiaro che non possiamo non tener conto del contesto complessivo che stiamo affrontando per quanto riguarda invece il quesito che mi ha posto sulle opposizioni beh devo dire che il passaggio che c'è stato l'uredì in Parlamento le comunicazioni fatte alle due Camere hanno segnalato hanno offerto qualche segnale di novità non vi sarà sfuggito che la maggioranza le forze di maggioranza hanno votato alcuni impegni contenuti in una risoluzione presentata dal centro-destra dalle forze di opposizione come non vi sarà sfuggito che abbiamo votato pressoché all'unanimità una risoluzione presentata da un esponente della Lega questi sono dei segnali dei segnali che si ricollegano anche voglio immaginare alla mia richiesta formulata ai presidenti delle Camere del Senato e della Camera dei Deputati di trovare una sede uno strumento per assicurare un confronto più serrato anche continuo e costante tra Parlamento le opposizioni come sapete hanno fatto la scelta di rifiutare un tavolo di confronto io se ci fate caso non l'ho chiamata cabina di regia non l'ho chiamata cabina di regia preciso anche adesso per la prima volta perché cabina di regia potrebbe far pensare a una cabina dove si assumono responsabilità gestionali e si condividono pienamente tutte le responsabilità invece l'ho detto anche in Parlamento avremo sempre il tavolo di confronto ci sarà se lo volete se ci ripenserete è ancora aperto il governo però si assume le proprie responsabilità non intende state tranquilli non è un problema di voler condividere le responsabilità di voler coinvolgere le responsabilità delle forze di posizione addirittura come ha detto qualcuno perché siamo in una nuova ondata no il governo si assume tutte le responsabilità quindi senza con piena distinzione dei ruoli però avverte l'esigenza e a dire il vero questo l'abbiamo sempre avvertito perché ci sono state tante occasioni in cui li abbiamo convolti avvertiamo l'esigenza che in una sfida così drammatica per il paese tutti quanti possano quantomeno condividere informazioni quantomeno essere coinvolti e cogliere lo spirito le finalità delle proposte e quindi le decisioni che si vanno a assumere poi spetta all'opposizione raccogliere o meno questo invito ma quel tavolo di confronto quella proposta è sempre lì rimarrà aperta sino alla fine basta così grazie a tutti buonasera grazie a tutti grazie a tutti